Tentato furto con spaccata alla bocciofila, la combattente di Fano è la terza volta nel giro di pochi anni. Trasporto pubblico locale, più fermate 22 bus aggiuntivi su Fano TV parla il direttore Massimo Benedetti che assicura siamo pronti per la riapertura delle scuole in tutta sicurezza. Basta alle risorse pubbliche destinate solo ai comuni capoluogo, la battaglia del sindaco di Fano Massimo Seri che chiede una riforma per nuove modalità di accesso e contributi così ci tagliano fuori. Maxi carteletari, la Lega Fano torna all'attacco, ancora sanzioni, il comune dia spiegazioni e riveda la tariffa per le aziende, ad oggi doppio rispetto a Pesore e Senigallia. Rivoluzione parcheggi sul lungomare di Fano, Aset pronta a rimettere mano al progetto che dipinge di blu più di 300 stalli durante l'estate, diventeranno a pagamento. Buonasera e bentornati sul canale 17 di Fano TV per una nuova edizione di Occhio alla Notizia. In apertura il tentato furto con spaccata la bocciofile alla combattente di Fano dove la notte scorsa qualcuno ha cercato di rompere il vetro della porta d'ingresso ma senza riuscire nell'impresa. Letizia Marchionni. Hanno spaccato il vetro della porta d'ingresso del bar per poi non riuscendo ad entrare andarsene a mani vuote. È accaduto questa notte intorno alle due alla bocciofila alla combattente di Fano quando qualcuno con l'intento di rubare nel bar della struttura ha ripetutamente colpito la porta in vetro con una grossa pietra senza riuscire a sfondarla per poi scappare dopo averla anche presa calci come testimoniano le impronte vicino alla serratura. Stanotte è successo che sono arrivati come vedete c'è questo vetro qui frantumato per fortuna non hanno sfondato e non sono riusciti ad entrare e non ha suonato neanche l'allarme ma il danno grosso è quello che vedete per noi è un grosso danno. È successo stanotte ci hanno telefonato quelli della notturna che fanno il controllo verso le due. A quanto ammontano i danni? Un vetro doppio così 4-500 euro la lanta che ci viene a costare ma questo è che non è la prima volta e questa è la terza volta che ci succede con il vetro e abbiamo avuto anche altri furti che sono passati da altre porte ma abbiamo per fortuna fatto delle spese con delle serrature un po' più sicure abbiamo messo altri tre e non riescono più ad entrare e adesso cercano di fare questo lavoro qua senza successo ma per noi è un danno. Il bar è chiuso non c'è consumo di bar quindi non ci sono entrate per quanto erano poche anche prima però per noi per il sostentamento di questa società ci faceva un po' comodo per poter continuare a tirare avanti sempre con grande difficoltà però insomma in qualche modo si tira avanti e adesso con questi danni qui ci siamo un po' scocciati e insomma siamo un po' stanchi di questa situazione adesso non so cosa vogliamo fare decideremo un prossimo consiglio se mettere delle telecamere non lo so fare un cancello vediamo non lo so vedremo. Gli introiti non ci sono introiti per modo di dire perché noi i nostri introiti sono solo per sopravvivere non è che abbiamo se guadagna niente è solo per tenere in piedi questa grande società ma è una grande società veramente una delle più storiche se non nelle Marche ma in tutta Italia e si piacerebbe continuare a tirarla avanti con grande voglia noi ce ne mettiamo tanto della voglia però quando succedono queste cose qua un po' tenteniamo però tiriamo avanti tiriamo duro Parco mezzi potenziato e fermate implementate siamo pronti a trasportare gli studenti in sicurezza lo afferma il direttore di Adribus Massimo Benedetti in vista della ripresa lunedì prossimo della scuola in presenza Il 25 gennaio si avvicina e dopo l'ordinanza firmata ieri dal governatore delle Marche Francesco Acquaroli che fissa lunedì la ripresa delle lezioni in presenza al 50% per le scuole superiori volgono al termine i preparativi per il ritorno in classe degli studenti fondamentale per una ripresa in sicurezza il potenziamento del trasporto pubblico locale ma noi siamo già pronti dichiara Massimo Benedetti direttore di Adribus Pesaro e Urbino abbiamo giunto 22 autobus, le corse sono molte di più sono il risultato anche della partenza che abbiamo pian pianino fatto da settembre fino a incrementare fino alla data in cui poi la didattica è stata sospesa ripartiamo con il 50% come capienza a bordo e il 50% di didattica in presenza quindi dovremo andare con una certa tranquillità considerando che abbiamo voluto proprio mantenere un servizio potenziato proprio per avere dei margini ulteriori di tranquillità sul rispetto della capacità a bordo degli autobus oltre al potenziamento del trasporto pubblico locale inoltre continua Benedetti abbiamo anche suddiviso e aumentato le fermate poiché le maggiori criticità come assembramenti non sono state riscontrate tanto nella fase dell'ingresso a scuola ma all'uscita quando i ragazzi si dirigono alle fermate in questo modo si evita la creazione di assembramenti snellendo così i gruppi di ragazzi al Pincio ad esempio qui a Fano ci saranno quelli che una volta erano appunto concentrati in due fermate i servizi vengono spostati su quattro fermate in modo che i ragazzi a seconda delle direzioni di destinazione si dividono e quindi dimezzano ulteriormente la possibilità di creare assembramenti in attesa dell'autobus la produzione di Cilio sta ipotizzando di utilizzare dei volontari anche a supporto delle nostre risorse che in qualche modo possono consigliare e supportare i ragazzi nel frangente da quando attendono l'autobus proprio a salire a bordo Per quanto riguarda i biglietti e gli abbonamenti a autobus com'è la situazione sotto questo frangente? I ragazzi continuano a fare gli abbonamenti oppure si fanno biglietti giorno per giorno? Intanto i ragazzi che avevano fatto l'abbonamento l'ultimo trimestre 2020 l'inizio del nuovo anno scolastico hanno avuto la possibilità di avere un voucher per riutilizzarlo o per comprare altri biglietti o abbonamenti certo i ragazzi fondamentalmente hanno rifatto gli abbonamenti ma c'è qualcuno che ha preferito utilizzare il biglietto visto che ancora non c'era una chiarezza su quando sarebbero riprese le scuole e si è spento all'età di 92 anni Angelo Becchetti storico allenatore della Vista Pesaro tra gli anni 60 e 80 Becchetti è deceduto questa mattina nel reparto di medicina del San Salvatore dove era ricoverato per Covid-19 a esprimere cordoglio anche il sindaco Matteo Ricci un personaggio stimato e amato da tutta la comunità sportiva e dall'intera città per la sua competenza amore e forte legame alla società biancorossa ancora oggi si legge in una nota era considerato il mister per eccellenza di origine romana Becchetti era ammirato e ben voluto da questa ha detto il primo cittadino che era diventata proprio la sua città e nelle ultime 24 ore nelle Marche si registrano in totale 11 decessi tra le vittime anche 4 persone della provincia di Pesaro Urbino invece i nuovi positivi sono 500 di cui 114 nella provincia pesarese anche oggi si registra un calo di ricoveri per coronavirus con 19 pazienti meno rispetto a ieri i degenti in terapia intensiva sono 83 mentre quelli in semi-intensiva 158 basta alle risorse destinate soltanto ai comuni capoluogo è una ingiustizia dirlo è il sindaco di Fano Massimo Seri che oggi ha deciso di dar voce a quei territori che rimangono esclusi dagli interventi finanziari dello Stato secondo tutti gli studi fatti recentemente tutti affermano che il motore dell'Italia sono le città medie e Fano a pieno titolo rientra fra queste siamo di fronte a grandi opportunità a cominciare dalle risorse del recovery Fano quindi è importante che queste risorse arrivino veramente a creare la crescita a rinnovare una crescita del nostro paese purtroppo negli ultimi anni abbiamo registrato una distribuzione di risorse ministeriali soltanto alle città capoluogo e questo io la reputo un'ingiustizia fra l'altro città capoluogo che in molti casi sono anche più piccole di altre città che stanno all'interno della stessa provincia allora io penso che sia il momento che si ritorni a riequilibrare perché rischio altrimenti che le risorse vadano soltanto in una determinata direzione e altre rimangono sempre fuori da queste opportunità è una questione di pari opportunità è una questione di giustizia e allora mi sono messo a capo di queste tante città che ci sono in Italia proprio per richiamare questo elemento per ricreare una giustizia e per un'equa distribuzione delle risorse che facciano ripartire questo paese e adesso parliamo di affitti e di alloggi popolari perché il comune di Fano va in soccorso alle famiglie in difficoltà i fondi che verranno ripartiti superano i 180 mila euro Fano sta facendo il massimo per aiutare chi ne ha bisogno così l'assessora welfare Dimitri Tinti che fa un bilancio delle richieste pervenute sono 300 i nuclei familiari a cui verranno erogati i contributi per il sostegno al pagamento degli affitti tra quelli che hanno fatto domanda al bando ordinario scaduto lo scorso mese di settembre rispetto all'anno precedente sono 129 le famiglie in più ad essere sostenute segno ha detto l'assessore che ci troviamo di fronte a una crisi crescente i fondi sono ripartiti dalla regione Marche e per il comune di Fano quest'anno ammontano a 183 mila euro i beneficiari sono stati divisi in diverse fasce quali sono i contributi previsti? le due fasce sono fasce ISEE che la prima la fascia ha 200 domande fino a circa 6 mila euro e poi la fascia B 100 domande fino a circa 12 mila euro i contributi variano da un minimo di 280 fino a un massimo di 770 circa quando e in che modo verranno erogati? sì purtroppo non siamo riusciti a derogare questi contributi a fine anno perché la regione ci ha trasferito i fondi poco prima di Natale quindi non c'erano più i tempi tecnici dobbiamo aspettare l'approvazione in consiglio comunale che avverrà entro febbraio del nuovo bilancio e poi si predispongono gli atti le modalità sono quelle del accredito diretto nel conto corrente indicato dal colore che hanno fatto richiesta l'assessore poi ha fatto chiarezza sulle accuse inerenti all'ipotetica disponibilità del comune di Fano di alloggi popolari non ancora assegnati al di là dei numeri riportati in modo pretestuoso a detto Tinti sono circa 600 quelli occupati a cui se ne aggiungono 5 già pronti infine altri 17 saranno disponibili dopo i lavori programmati e finanziati da fondi ERAP e da fondi regionali a fronte di 60 domande nuove poco più di una decina in più rispetto all'anno prima ma devo dire che abbiamo dato un buon servizio con il Fab Lab e poi anche lì i tempi poi saranno quelli dell'approvazione della gradatoria con le integrazioni e le osservazioni che chiaramente tutti coloro che hanno fatto richiesta possono presentare stiamo invece impegnati fortemente per incrementare il patrimonio di edilizia sociale perché fanno davvero a bisogno di garantire a tutti il diritto fondamentale della casa E più di 300 parcheggi di Lido e Sassonia diventeranno a pagamento nei mesi estivi i lavori inizieranno a giugno ma vediamo quali sono i tratti interessati nel prossimo servizio di Filippo Pucci Abbiamo ripreso in mano questo progetto di parcheggi perché secondo noi il progetto di parcheggi è altro non è che un servizio alle attività economiche in realtà anche determinate aree quando guardiamo le città limitrofe non ci scandalizziamo minimamente di quello che sta succedendo che è successo tipo Pesaro, Senigallia e quant'altro secondo noi era possibile e probabile effettuare un ragionamento su determinate aree che sono a servizio delle attività turistiche e quello faremo A partire dal mese di giugno fino a metà settembre altri stalli per le auto nella città di Fano diventeranno a pagamento un'operazione che Aset su volontà del comune metterà in atto durante la prossima stagione estiva sono più di 300 i parcheggi totali che da bianchi cambieranno in blu nelle zone di Sassonia e Lido ovvero da viale adriatico fino al porto quelli a fianco al laboratorio di biologia marina e quelli davanti al noto self service fanese per quanto riguarda la parte di Sassonia mentre per il Lido piazzale Amendola la tratta di via Spontini e viale Cairoli naturalmente ci sarà una regolamentazione una nuova regolamentazione dei posti perché abbiamo notato che c'è anche un po' di diciamo così di confusione nell'utilizzo di alcune aree quindi si tenda di razionalizzarli e di rimettere in sesto in pratica queste aree dedicate con questa soluzione si offrirebbe più ricircolo dei parcheggi ha commentato il presidente di Aset Paolo Reginelli per quanto riguarda il costo del ticket ancora non è stato ufficializzato un tariffario mentre gli orari saranno sempre gli stessi no, non abbiamo ancora pensato alle cifre perché penso che insomma saranno comunque allineate a quelle del resto della città senza nessun genere di aumenti o quant'altro io penso che la cosa più importante oggi per i cittadini è non farli perdere tempo ok? di cosa parliamo? parliamo di un contesto comunque vacanziero legato a delle situazioni che intanto permettono delle vaste aree dove il parcheggio è gratuito quindi che ne so tipo l'area dello sport parco oppure tutta quella limitrofa alla stazione ferroviaria quindi se si vuole farla sana passeggiata non c'è nessun problema ok? se si vuole la certezza di avere un posto vicino magari al locale nel quale si vuole passare la serata o per determinate necessità se ha bisogno di sostare per tempi limitati penso che in un contesto del genere non ci sia nulla di opprimente né di punitivo nei confronti dei cittadini se per andare a cena invece che spendere che ne so 30 euro a testa ne spendono 31 in tre e adesso torniamo a parlare delle maxi cartelle dell'Atari la tassa sui rifiuti e arrivate le imprese oggi la Lega Fanno è tornata sull'argomento per chiedere al comune di rivedere la tariffa ma lancia anche una frecciatina sui parcheggi del lungomare che diventeranno a pagamento non si placa la protesta di chi si vede recapitare dalla concessionaria Andreani Tributi le bollette dell'Atari nei mesi scorsi Fanno TV aveva raccolto la testimonianza e le richieste di imprenditori e proprietari di palazzi storici che si sono ritrovati a dover pagare cifre esorbitanti a causa di metrature cambiate e arretrati da restituire oggi a chiedere spiegazioni sono i consiglieri della Lega che continuano a ricevere segnalazioni dalle aziende sanzionate torniamo a parlare di Tari perché a distanza di qualche mese dalle promesse che erano state fatte dal sindaco e dall'assessore competente gli imprenditori di Fanno stanno ricevendo ancora nuove cartelle qualcuna addirittura milionaria noi non siamo come abbiamo detto per dire che le persone non devono pagare le tasse devute noi vogliamo che le persone non siano in un momento di difficoltà come questo dove gli imprenditori si affannano per continuare le proprie attività e continuare a dare il lavoro non siano vessati da questi provvedimenti che riguardano dei cambi legislativi tutti ancora da appurare quindi una tassa che deve essere rivista rimodulata sicuramente questa tassa deve essere rivista e il comune di Fanno deve come fanno altri comuni di questa zona rivedere la tariffa che viene pagata sui parcheggi blu invece qual è la posizione della Lega? la posizione della Lega è la stessa che avevamo a dicembre del 2019 quando per primi siamo intervenuti e ad oggi è evidente che anche questa persecuzione dei parcheggi delle strisce blu sia come la vicenda della Tari uno strumento del comune per fare cassa a discapito di operatori turistici e di cittadini che si troveranno a dover pagare un parcheggio generoso per passare una giornata al mare oppure a cercare in vano il parcheggio per delle ore per evitare di pagarlo e questa e questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale ma vi annuncio che lunedì sera l'ospite di primo cittadino sarà il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti intanto però l'appuntamento è per domani mattina alle ore 7 con la nostra segna stampa arrivederci e buona serata a tutti